Uno mi dica basta, alle volte penso che non vedrai di diventare grande, ma i nonni mi dicono sempre pensa adesso a giocare e divertirti perché quando saranno non ti potrai più poterti come ora perché giocherai un lavoro, un fidanzato, una casa e allora il gioco e il divertimento non ci saranno più io voglio ciò che sia sempre mio compagno d'età, allora fai in modo di divertirmi anche mentre lavorerò, cucinerò, cantando giocherò con i miei figli e riderò con loro, farò tutto in modo giocoso Attenzione, non concordo con l'insegnante che ha detto non siete stati un attimo fermi, ho sentito Complimenti a tutti, ma io penso che loro hanno fretta di imparare e noi dobbiamo accompagnarli in questa corsa veloce ma ben organizzata Passiamo adesso alla premiazione Passignano, prima categoria insegnante faluomi Salutiamo l'assessore Maria Prodi perché ha un altro impegno a Perugia, la ringraziamo Ok, quindi questo è il terzo premio Un applauso per i bambini e per le classi e per le sezioni che vengono a ritirare il premio E mio, classe prima San Feliciano scherzi d'acqua Bravissima Grazie 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 Grazie